A inastri di partenza anche i campionati di prima categoria, così come nella scorsa stagione le formazioni irpine sono state raggruppate in due gironi. Il primo indicato con la lettera C, tra protagoniste le formazioni della bassa irpinia, quelle mandamentali, due appartenenti alla Valle Caudina, tra cui il Paolisi 2000 di Stampo Sannite, ed altre squadre dell'Irno Salernitano, tra le quali spuntano le due Sarnesi, PS Sarno ed Inter Campania. Nel girone D invece le formazioni sono tutte appartenenti alla Valle Ufita, alcune al Tirpine ed altre due pugliesi, Anzano di Puglia e Sporting a Cadia. Nel prossimo weekend ci sarà la prima giornata di campionato. Nel girone C il match di cartello, almeno stando ai valori che esprime la carta, sarà quello tra Parco Aquiluone e Def Civallo. Nel girone D invece suscita un discreto interesse la gara tra Gesualdo e Vincenzo Nigro Bagnoli. È ancora presto per esprimere giudizi, ma per come viene presentata dagli addetti ai lavori la prima categoria di questa stagione è potenzialmente una delle più interessanti degli ultimi anni.